Un cantiere aperto, comunque ci mancano ancora 3-4 giocatori importanti, però credo che il lavoro che sta facendo il nostro DS è un lavoro soprattutto di qualità, di prospettiva e soprattutto di valorizzare i ragazzi. Io poi credo che il campionato è alle porte, ma l'audace sicuramente dirà la sua. E' arrivato il gran colpo in difesa per il Cerignola, Alessandro Ligi, elemento esperto e un classe 89 che vanta un ottimo feeling anche con le porte avversarie ed è andato a segno sei volte con la Trestina nello scorso campionato di Serie C. Tanta Serie B per lui in carriera, in Puglia ha giocato a Bari. Non sarà l'ultimo colpo ad effetto intanto per gli Ofantini, come ha sottolineato nel ritiro di Palena al termine del primo test estivo il presidente Nicola Grieco. Ci saranno almeno altri tre innesse di spessore. Uno riguarderà senza dubbio il reparto avanzato. Il dirigente di riferimento dagli Ofantini nel frattempo apprezza il lavoro svoltosi in cui sul mercato dal direttore sportivo Elio Di Toro sia sul fronte conferme diversi protagonisti della promozione in C, a cui è stata rinnovata la fiducia, sia per quanto riguarda le entrate molti i calciatori giovani con cui è stato raggiunto un accordo pluriennale. Grieco invece si aspettava qualcosa in più dalla campagna abbonamenti. Il traguardo delle mille tessere, obiettivo minimo per una realtà che per la prima volta nella storia si affaccia al calcio professionistico, è ancora parecchio distante. Non mi aspettavo un numero di abbonamenti così basso perché comunque sono numeri che ancora non ci competono, ecco il numero degli abbonati, però noi siamo tranquilli, io sto portando avanti il mio progetto di costruire una squadra all'altezza della categoria, poi il campo dirà a che punto siamo. L'invito che faccio a tutta la città di Cerignola è quello di sostenerci, di starci vicino, ma soprattutto credere in questo progetto che ormai stiamo portando avanti da 8-9 anni e soprattutto di non deluderci perché comunque l'audace ha bisogno del pubblico, l'audace ha bisogno di tutta la città di Cerignola perché comunque è la nostra prima vera esperienza in Lega Pro.